Certamente FOS subirà una botta definitiva, nel senso che quelli che si riunivano d'estate, che andavano in piazzetta, non vanno più in piazzetta perché in piazzetta sarà proprietaria di altre persone, in quanto è l'unico posto dove la gente si può trovare. Andare lì, che è l'unico posto dove c'era la fontana, dove la gente si trovava per parlare di politica, dove la gente si trovava per raccontarsi un pochettino i fatti l'uno dell'altro, probabilmente non è più così, non sarà più così. Per FOS l'arrivo dei profughi segnerà l'inizio della fine, ne è convinto Walter Peruzzo che in questo borgo di Enego è nato e che tra queste case torna ogni anno per respirare aria di casa. Qui risiedono stabilmente sette persone e vivere in questa frazione è tutt'altro che facile, bisogna essere gente abituata alle difficoltà e alle fatiche della montagna. È impossibile vivere per i locali, le immagini di quelli che vengono lì, che devono prendere una corriere eventualmente quando passa, oppure andare a piedi in paese dove evidentemente ci sono delle difficoltà proprio logistiche. Venire lì significa essere isolati, se sei lì e ami il posto, vabbè, uno si arrangia, se no è veramente molto difficile. Insomma una sistemazione non idonea ai migranti continuano a ribadire da fosse, dove è in corso anche la raccolta di firme e dove la parrocchia ha pure preso posizione ribadendo che isolare in un piccolissimo centro un gruppo di giovani stranieri rompe un equilibrio che non porta frutti. Riteniamo che la piccolezza dell'ambiente, l'attitudine, la mancanza di servizi, la impossibilità di avere un colloquio, di tenere qualche riunione assieme a queste persone qui è veramente improbabile quando non è impossibile. Grazie.